Come sapere di più di una persona? Come sapere tutto di una persona? Se tu vuoi sapere tutto di una persona, vuoi che questa persona si apri, c'è un metodo molto semplice. Intanto, prima, inizialmente, chiamala per nome, usa spesso il suo nome. Il nome rappresenta un ancoraggio emozionale molto importante e quindi usare spesso il suo nome va a creare una forma di empatia per cui la persona già sarà più predisposta a parlare, a dirti delle cose, a interagire positivamente con te. Questo è il punto fondamentale per consolidare un'empatia. Ma poi c'è di più. Tu puoi fare una domanda a qualsiasi, raccontami qualcosa di te, lasci che questa persona parli, quando ha finito tu resta in silenzio e mantieni semplicemente il contatto visivo. Creerai una guest alta aperta e questa persona ti racconterà molto di più. Metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti!